L'eremita e il lupo. Un eremita tracciò una linea nella sabbia e disse, non puoi superare questa linea. Tracciò poi un cerchio dicendo, devi rimanere dentro questo cerchio, puoi attraversarlo, ma non superare la linea. Venne la tempesta e la linea scomparve. Un lupo stava dentro il cerchio. Il freddo e la pioggia lo avevano sfinito, ma non si muoveva. Non sapeva se la linea esistesse ancora, perché non era più tracciata nella sabbia.